16 gli ordini del giorno al disegno di legge sul bilancio che sono stati presentati dal gruppo Lega Valle d'Ost. Solo due di questi sono stati approvati dal Consiglio con una rimodulazione di entrambi sull'impegnativa richiesta. Il primo ordine del giorno approvato impegna il Governo regionale a predisporre, in collaborazione con gli enti locali e le società partecipate e coinvolte, una mappatura delle attrezzature e dei materiali di risulta delle stazioni sciistiche dismesse su tutto il territorio regionale, per poi procedere successivamente alla bonifica di queste aree, delle aree interessate, al fine di una tutela dell'ambiente e dei suoi ecosistemi. Il secondo ordine del giorno approvato invece riguarda un possibile percorso da avviare in accordo con il Celva e con la diocesi di Aosta per un censimento delle edicole devozionali e votive che sono presenti sul territorio regionale, per intenderci quelli che tutti noi chiamiamo comunemente oratori votivi. Questo perché in considerazione comunque dell'aumento dell'escursionismo storico, culturale, religioso e spirituale, un tipo di turismo che è sempre più in crescita, tutto questo al fine di attuare corrette strategie di tutela e di valorizzazione di questo patrimonio che è presente sul nostro territorio valdostano. Sono stati infine presentati 5 emendamenti al disegno di legge, al disegno di legge 127 sul bilancio e tra questi uno era veramente molto importante perché riguardava la possibilità di inserire tra le priorità nell'utilizzo delle somme risultanti dall'avanzo di amministrazione 2023 delle risorse necessarie agli interventi e a quelle manutenzioni che servono alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Aosta che necessita ormai da diverso tempo di importanti interventi di ristrutturazione al fine di renderla pienamente agibile e perfettamente funzionante. Ma ahimè, purtroppo questo emendamento non è stato accolto dall'attuale maggioranza di governo. Concludo dicendo che vorrei fare degli auguri. Siamo ormai prossimi alla ricorrenza del Santo Natale e quindi vorrei augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Natale. Grazie.